rna messaggero abbiamo qualcosa in mente anche noi su questa espressione che di per sé da detti ai lavori come già vi ho detto nel sommario oggi abbiamo un ospite particolarmente qualificato e anche particolarmente gentile affettuoso uso anche questo aggettivo compadre più tv e ce n'è motivo grazie dunque al professor angelo vescovi di essere in diretta con noi da da roma roma ecco da roma questo nobel per la medicina a proposito lei dice nobel o nobel nobel io dico nobel no penso che si possa dipende dal paese si può io mi attengo a lei perché mi sembra la guida migliore in inglese normalmente di nobel prize quindi benissimo nobel prize quello per la medicina il primo che viene assegnato ieri abbiamo saputo ne abbiamo accennato catalin caricò una donna ungherese tra poco vedrete anche l'immagine una donna che sicuramente ha fatto felice la mamma come ha raccontato appunto che la spingeva a entrare tra i premiati fin da ragazzina e poi lo statunitense drew weissman hanno gettato le basi per i vaccini amrna messaggero ci vuole spiegare meglio lei anche la motivazione grazie sì in realtà la storia è molto più complessa di quello che possono conoscere le persone che non sono speciali e lo sospettavamo però confido il no infatti è anche un po dolorosa devo dire perché in realtà molti anche dei miei colleghi come me ritengono che parte del credito anche significativa sarebbe dovuta anche andare a rober malone che è quello che veramente ha concepito questo genere di trattamento le spiego cerco di essere sintetico e chiaro diciamo il principio secondo il quale questo tipo di poi quella che è diventato una terapia per creare vaccini e adesso verrà applicata anche per i tumori e tante altre malattie è stato sviluppato è di per sé abbastanza semplice le nostre cellule producono i mattoncini che le conoscono leggendo il nostro codice genetico il nostro dna lo sanno tutti no il nostro dna fino a qui ci siamo arrivati approfitto per farle presente che siamo in due studio anche se nell'inquadratura ancora toni non è entrato il nostro collega toni augello buongiorno buongiorno dottor rogello quindi questo è il modo comune in cui tutte le nostre cellule funzionano che proteine produrre quanto produrre le cellule lo fanno semplicemente leggendo il dna immagini di entrare in una biblioteca vedere che c'è un libro in quel libro c'è scritto come fare le proteine delle cellule del fegato la cellula del fegato alla scaletta per andare a prendere quel libro tira la proteina tira fuori il libro e legge le istruzioni per fare quel tipo di proteina che poi le cellule del fegato usano per costruire le istruzioni una volta lette il libro è il dna le istruzioni sono l'rna cioè quel codice che si manda in fabbrica per produrre le proteine il blueprint il progettino insomma ecco che cos'è l'rna tutte le nostre cellule nessuna scusa questo è la base della vita vera e proprio questo diciamo questo codice è estremamente labile si di grada molto velocemente per permettere di decidere eventualmente di bloccare la produzione un certo momento quando noi vogliamo utilizzare gli rna per fare dei vaccini la cosa funziona in questo modo l'rna quindi il codice da leggere per produrre la proteina che le cellule si mettono a leggere e cominciano a preparare quello che devono far fare non viene dal dna della cellula ma viene mandato dall'esterno cioè glielo diamo noi lo iniettiamo con quel lago lì ecco quello che fa lago inietta le istruzioni per produrre una proteina e questo da quanto tempo lo sappiamo fare ecco questo è proprio il punto grazie sembra che ci siamo messi d'accordo ma questo è solo credito alla sua professionalità e non sono un piaggiatore nel senso che era proprio quello che dicevo prima dal 1987 in realtà e non sono i due scienziati che hanno ricevuto il nobel che hanno ideato questa cosa bensì questo giovane studente del solchi istituto a san diego dove io ho peraltro lavorato che si chiama san diego in california ricordo siamo negli stati uniti scusi se ogni tanto la interrompo no ma va benissimo questo fu lo studente che mischiò dell'rna con delle gocce lipidiche e dimostrò che facendo così era possibile attraverso la goccia lipidica portare dell'rna che non era della cellula ma che veniva da fuori dentro la cellula il breakthrough la scoperta principale che permette questo genere di approccio e che si basa su scoperte precedenti per l'amor di dio però diciamo è il cambiamento geniale è questa il 1987 e quindi secondo me era importante anche includerlo in questo doppio che poteva diventare tranquillamente triplo premio 9 il problema che si manifestò da 87 a oggi e che poi si risorse definitivamente con questa pandemia quindi il covi tristemente ha portato poi dei progressi enormi ovviamente come sempre sotto pressione si fanno progressi a che l'rna come spiegavo prima è molto labile e cercare di darlo con un'iniezione non appena viene iniettato nell'organismo il nostro sistema immunitario si accorge che non è cosa nostra lo attacco lo distrugge quindi vaccinare con l'rna è di fatto impossibile qui entra in gioco la scoperta del nobel perché i due scienziati che ha fatto un lavoro incredibile hanno trovato il modo di cambiare leggermente modificando chimicamente le letterine che scrive che sono che costituiscono le parole che la cellula leggeva per produrre la nuova proteina hanno fatto delle modifiche chimiche e il nostro organismo quando il vaccino viene iniettato dopo questa modifica chimica nella struttura delle parole non lo vede più come un nemico semplicemente non lo vede a questo punto che noi abbiamo messo nel vaccino entra nelle nostre cellule porta frammenti della proteina virale e le nostre cellule cominciano a produrre la proteina non il virus sono dei pezzettini questo è sufficiente perché questi pezzettini che poi vengono espulsi dalla cellula li veda il sistema immunitario e prepari degli anticorpi che quando entra invece il virus vero sono già pronti e quindi la reazione immunitaria è molto più veloce per intenderci non avendo mai visto un determinato virus il picco quindi il primo punto di efficienza della nostra reazione immunitaria che varia da paziente a paziente è intorno ai 15 giorni dopodiché la risposta immunitaria monta veramente la sua terza settimana anche un mese se noi abbiamo già gli anticorpi pronti perché gli abbiamo messo l'RNA e le nostre cellule hanno prodotto i frammenti di proteine quindi hanno già visto il virus in qualche modo la reazione avviene in pochi giorni sicuramente anche in una settimana c'è già puntata una risposta molto forte che al quindicesimo giorno è molto forte questo ovviamente impedisce al virus di raggiungere livelli di concentrazione all'interno dell'organismo esagerati al punto tale da creare tutti i danni che fa chiudo dicendo una cosa molto semplice si è creato intorno a questi vaccini anche per degli errori di comunicazione di alcuni colleghi che parlavano i vaccini sperimentali che non c'era niente di sperimentale si è creato un alone di mistero e quindi dove c'è mistero c'è paura il concetto da capire molto semplice quando un virus entra entra nelle tue cellule vivo sequestra quel macchinario di lettura del codice genetico lo fa suo e produce un numero immenso non di frammenti delle sue proteine le sue proteine in coppie enormi finché la cellula letteralmente collassa esplode e vengono rilasciate nell'organismo copie del virus che continua a crescere in maniera esponenziale le proteine del virus sequestrano il sistema immunitario lo deprimano attivano dei programmi cellulari che portano alla fibrosi la famosa fibrosi pulmonare creano cicatrizzazione perché procura l'infiammazione cronica il bacino porta dei frammenti del codice genetico del virus peraltro resi più deboli passatemi questo termine e sono solo frammenti di proteine producono un po di proteine ma quello è sufficiente a generare una risposta di emergenza protettiva c'è una sostanziale differenza tra un'infezione del virus che se ti prende fa dei danni enormi penso alle forme di long covid che adesso si comincia a capire da dove vengono rispetto a un vaccino che si è stato sviluppato in tutta frezza ma nessuno si è reso conto della cosa incredibile che è avvenuta io lo dissi all'inizio della della pandemia dieci mesi per un vaccino io una cosa che non avrei mai pensato sono state salvate milioni di vite hanno effetti collaterali non esistono farmaci un vaccino un farmaco che non hanno effetti collaterali chiudo dicendovi che la frequenza e l'entità del rischio causata dai vaccini è almeno un ordine di grandezza se non ricordo male inferiore in termini effetti collaterali alla banale pillola anticoncezionale grazie professore è stato veramente straordinario staremo qui ad ascoltarla per ore perché a volte non immaginiamo l'immenso lavoro che c'è dietro un vaccino lei ci ha restituito in maniera chiarissima ecco quanto sia prezioso il lavoro degli scienziati della comunità scientifica purtroppo i tempi stringono per cui noi dobbiamo salutarla ma veramente colmi di gradi l'aspettiamo enorme a san giovanni rotondo di comunità scientifica appunto e l'aspettiamo in studio ovviamente per parlare anche specificamente di tanti vostri traguardi non solo quelli già raggiunti ma anche quelli che vorrete raggiungere l'aspettiamo ogni tanto ci incrociamo a viale dei cappuccini la bloccherò la prossima volta spero di poter portare notizie fresche a breve sulla sperimentazione della sclerosi multipla di fase 1 stiamo aspettando la conferma della rivista settimana scorsa però sono usciti i risultati sui tumori cerebrali che sono eccezionali forse li avete visti molto bene nel frattempo quindi niente paura per il prossimo vaccino ma assolutamente no io credo che veramente quello che la gente deve capire tutti noi dobbiamo capire lo dico anche a me stesso è che nel momento in cui nasci addirittura nel momento in cui viene concepito se ancora ho poche cellule comincia il rischio la vita in realtà è il rischio continuo che va minimizzato e io posso dire che in questo genere di approcci si cerca di minimizzare il rischio poi esistono storture in tutti i sistemi gestiti dagli esseri umani ma questi vaccini sono veramente una conquista enorme dell'umanità e ripeto sta con questi cambiamenti perché questo è stato cambiamento critico è applicabile nell'uomo significa vaccini contro i tumori e vaccini contro tutta una serie di malattie che in questo momento sono completamente incurabili quindi è un grande futuro con una tecnica che in realtà questo punto è estremamente semplice spiace per robert malone che fece il primo sperimento concettualmente sviluppo la tecnologia un grazie insomma anche a questo emerito sconosciuto ma chissà quanti ce ne sono poi anche in altri ambiti ci sono persone che fanno anche nella scienza bene prof allora l'aspettiamo nei nostri studi intanto davvero grazie buon proseguimento di giornata e buon lavoro noi noi proseguiamo con il programma di oggi però dobbiamo un attimo fermarci per la pausa pubblicitaria e poi per poi ripartire di slancio grazie a tutti